In Italia sembra non piacere molto lo smartworking, siete d'accordo anche voi? Ciao a tutti ragazzi bentornati qui sul mio canale, io sono Giuppi, sono un freelance e anche oggi voglio leggere con voi alcuni articoli relativi al mondo del lavoro da remoto. Leggiamo insieme questi articoli perché li trovo molto molto interessanti. Dunque il primo articolo lo prendiamo da Varese News, mi è capitato così nel feed di LinkedIn ed è Lavorare a casa e pranzare in mensa, lo smartworking secondo Helmec. Un'azienda di servizi con sede a Brunello, è stata una delle prime che ha introdotto lo smartworking. Qual è però la notizia? Qua parla appunto di questa azienda che comunque è sempre stata molto attenta allo smartworking già da prima della pandemia, il covid ha accelerato diciamo questo passaggio quindi sicuramente un'azienda illuminata e qua si parla di rapporto ibrido che è sicuramente molto interessante post pandemia ovvero dare la possibilità alle persone di lavorare sia da casa che andando in ufficio. Bene, ma qual è la notizia? Che danno la possibilità a chi è in smartworking di andare a mangiare la mensa aziendale quindi immaginate di essere a casa a lavorare e poi a pranzo andate in azienda. Ora voi potreste pensare che magari non è una cosa tanto furba, in realtà è molto interessante perché potrebbe essere quello il momento in cui ci si incontra con altri colleghi con cui magari si deve scambiare qualcosa, si fa vita sociale, si approfitta della mensa adesso non so se sia inclusa o meno, però è un'idea interessante no? Il fatto di avere sia lo smartworking ma anche la possibilità di andare in azienda come luogo così di ritrovo che poi è anche un modo per lavorare in sinergia con altre persone quindi devo essere sincero è una cosa che mi fa contento nei confronti del mondo dello smartworking. Ora perché ho letto questa notizia? È sicuramente interessante ma come tante altre notizie è un'eccezione almeno io la considero un'eccezione perché letta così, leggendo questo articolo sembra che in Italia ormai lo smartworking ha rivoluzionato tutte le aziende ci sono questi progressi nel creare delle soluzioni ibride si lavora un po' da casa, si va in azienda, c'è la palestra cioè si inizia a volare tantissimo con la fantasia la realtà è ben diversa ed è qui che arriviamo poi al secondo articolo che in realtà è quello principale che mi ha fatto così un po' intristire invece questa volta per quanto riguarda il mondo dello smartworking andiamo a leggerlo insieme stavolta siamo sul Corriere della Sera quindi grande quotidiano nazionale che ci dice smartworking in Italia rallentra mentre in Unione Europea aumenta ecco perché bene, ecco il mondo reale cosa ci dice? che nel post pandemia solo 2,1 milioni di lavoratori da remoto il 37,2% dei potenziali 8 milioni di smartworker 37% vuol dire più o meno che uno su tre delle persone che potrebbero lavorare da remoto lavora in smartworking che già è un po' poco Italia fa un allino di code in Europa che strano perché di solito siamo nel top no, a parte le battute cosa ci dice? che siamo 5 punti sotto la media e va bene, ci può anche stare nel nostro paese la percentuale delle persone che lavorano da casa è salita dal 3,6 al 12,2 ok, per poi scendere all'8,3 nel 2021 quindi dopo la normale salita che c'è stata con la pandemia siamo scesi ma nell'Unione Europea si è passati dal 5,4 al 13,4 nel 2021 quindi c'è stata una crescita continua ovvero finita la pandemia, finita l'emergenza pandemia comunque lo smartworking si è diffuso ed è aumentato da noi invece ovviamente finita l'emergenza finisce anche il progresso o almeno diminuisce pagina 3 qua ci parla ancora di paesi qua ci sbeffeggiano ancora l'Irlanda è la più smart perché sono passati al 32% nel 2021 e 32% vuol dire che comunque tantissima tantissima parte della forza del lavoro è da remoto l'Università 22 l'Italia invece è l'unico che ha arretrato quindi tutti sono aumentati nel 2021 l'Italia invece ha detto ragazzi tornate tutti in ufficio bene ora qua ci dice invece in che percentuali tra uomini e donne si avvalgono del lavoro da remoto in Italia secondo me questo è un dato interessante il fatto che ci sia una percentuale più alta di donne ora ovviamente all'interno di un equilibrio familiare ci può essere che una delle due parti abbia una presenza maggiore all'interno della famiglia sicuramente in Italia che siano più le donne rispetto agli uomini anche più normale perché siamo un popolo più conservatore da questo punto di vista ci dice anche che sono più giovani a fare smart working e anche questo secondo me dà il senso della continuo a usare la parola conservatore perché non voglio usare parole peggiori tra virgolette nel senso che magari le persone più giovani sono più propense a una novità come quella dello smart working che offre poi un sacco di vantaggi mentre le persone magari più anziane sono più come dire legate al mondo tradizionale dell'ufficio che assolutamente non è vero per tutti ma può essere che sia anche questo un fattore e quindi mi viene da pensare che forse questa distribuzione nelle fasce d'età di anche poi il valore generale perché sicuramente stiamo invecchiando come paese quindi ci sta che se i più giovani fanno smart working e i più anziani no le percentuali poi dicono che lo smart working viene in qualche modo bocciato questo è un altro dato interessante che al nord si è più propensi a lavorare da casa anche in questo caso non so se sia una questione culturale sicuramente al nord è più ampio il numero di aziende quindi può essere che ci siano più casi virtuosi come quelli che abbiamo visto prima sicuramente è un altro dato interessante ma è comunque una cosa generale non si può neanche pensare che al nord tutti fanno smart working al sud no è evidente che questo dato dimostri come a livello nazionale ci sia una propensione ma io credo più da parte delle aziende di non voler fare troppo smart working ora qua c'è un'osservazione di questo Daniele Fano coordinatore del comitato scientifico Rastad che dice che dopo la fase più dura della pandemia aziende lavoratori sembrano aver scelto la strada del ritorno alla modalità di lavoro tradizionali non cogliendo un'opportunità di cambiamento storica è sicuramente vero ma io credo che sia molto più dettato dall'azienda che dai lavoratori almeno io posso parlare ovviamente per esperienza personale con chi non conosceva il mondo dello smart working che è rimasto comunque assolutamente abbagliato dai benefici che può portare ma non a livello assoluto anche facendo solo qualche giorno quindi non parlo neanche di una scelta radicale come può essere la mia di vivere in giro per il mondo però dire che aziende lavoratori hanno detto ma basta torniamo in ufficio mi suona un po' strano mi viene da pensare che forse siano più le aziende che hanno detto bene ragazzi è finita l'emergenza tutti in nuova casa il fatto anche che si differenzi dagli altri paesi europei mi dà idea che non siamo proprio noi lavoratori che non possiamo fare a meno dell'ufficio ma magari è una scelta così un pochettino culturale comunque poi qua si dice che in alcuni settori è attecchito più che in altri è normale che sia così ma ripeto è il dato preoccupante anche nei servizi si usa più lo smart working rispetto ad altri settori comunque c'è stato un calo drastico questo vuol dire che comunque a livello generale c'è stato un ritiro da parte dell'azienda di questo tipo di beneficio ma in realtà l'ultima notizia diciamo che mi dà ragione da questo punto di vista ovvero che dal primo settembre dal momento sembra che sarà così si torna alla sottoscrizione di accordi individuali tra aziende e lavoratore cosa vuol dire che è necessario che ogni singolo lavoratore faccia un accordo con l'azienda per poter in qualche modo iniziare a lavorare smart working ora non era così con l'emergenza l'azienda poteva unilateralmente decidere che si stava a casa a lavorare smart working questo passaggio che era quello diciamo pre pandemia rende tutto un pochettino più macchinoso ora voi immaginate fare già in Italia è un casino fare le cose rendiamole più macchinose cosa succederà quella cosa in qualche modo verrà in qualche modo usata di meno al momento con questo tipo di leggi sicuramente non si sta favorendo lo smart working però in questo caso non me la sento neanche di dare troppo la colpa a questa cosa che forse poi sono uno di tanto i sintomi del modo in cui viene visto lo smart working nel nostro paese ma io credo che comunque il problema principale sia che culturalmente si fa ancora fatica almeno in alcune realtà ad accettare che le persone possono essere in qualche modo più avvantaggiate da una situazione che non crea nessun problema ma che rende necessario che l'azienda dia fiducia ai propri lavoratori perché io credo che uno dei problemi principali per cui lo smart working non si diffonda come potrebbe in Italia è che le aziende non si fidano dei propri lavoratori che poi stanno a casa, non fanno niente, vanno al supermercato da questo punto di vista serve ben altro che una legge per rendere tutto più agevole però sicuramente la botta alla pandemia ce l'ha data allo smart working quindi credo che sarà difficile farlo sparire comunque magari è solo una questione di tempo bene queste sono solo le mie riflessioni su queste notizie fatemi sapere nei commenti voi che cosa provate, cosa vedete nelle vostre realtà perché poi ovviamente ho la mia bolla anche di persone che conosco e quindi vorrei sentire anche altre opinioni per capire se è una mia percezione questa di aziende che non vogliono oppure sono tante persone che in realtà a cui non interessa fare smart working e sono io che sono fissato questo lavoro da remoto ma non è che sia obbligatorio per tutti è sicuramente bello vedere anche delle realtà come la prima che abbiamo visto che si inventa qualcosa di nuovo, che vuole dare dei vantaggi ai propri lavoratori anche legando tutto lo smart working ma anche la vita aziendale purtroppo le percentuali dicono che stiamo tornando un po' indietro rispetto alla pandemia però come ho già detto secondo me è una questione di tempo almeno lo spero per tutte le persone che invece traggono beneficio dello smart working ci vediamo nei prossimi video in cui tornerò a parlarvi delle mie prossime avventure organizzative per il grande viaggio che farò con la mia famiglia e appena leggo un'altra notizia di interesse io la butto qua per riflettere con voi sul canale so che magari a molti non interesserà però per me è un modo per condividere quello che vedo e quali sono i miei pensieri quindi grazie a chi ha visto il video ci vediamo alla prossima